A tutti coloro che ci sono, ci state seguendo e ascoltando, un saluto e un ben ritrovato a Missione Mondo. Ancora una volta siamo con degli ospiti che potete riconoscere perché ce l'avamo già visti e quindi ripeto e accogliendoli insieme a voi abbiamo la signora Daniela, la dottoressa, ben trovata di nuovo e poi accanto a lei c'è Alina, ben trovata anche Alina, davvero è un piacere sempre avervi qui con noi. Abbiamo poi la signora Silvana, ben trovata e come sempre gli fa compagnia padre Francesco che abbiamo già incontrato, conosciamo un frate Cappuccino che appunto si occupa piuttosto anche di seguire tutti gli altri frati, soprattutto facendo viaggi di qua e là e come sempre riunisce in questo momento soprattutto quel viaggio che avete fatto in Centrafrica e tutte le missioni che avete incontrato. Ricordo che avevamo già sottolineato tanti aspetti, aspetti che avete visto ma così introducendoli. Adesso entriamo un pochino dentro in profondità e chiedo alla dottoressa Daniela soprattutto in quanto anche me dico appunto che situazioni ha trovato degli ospedali, come funzionano? C'è un'idea di somiglianza, di vicinanza, di divergenza rispetto agli ospedali ai quali siamo abituati qua? Allora noi siamo andati in tre ospedali fondamentalmente, a Buar e all'ospedale di Maigarò che è gestito da una nostra amica, una suora, Sor Giulia. Poi siamo andati all'ospedale di Ngaundai nell'estremo nord, un ospedale statale ed infine siamo stati nell'ospedale di Boccaranga che è quello appunto in cui dicevo l'altra volta i miei genitori avevano dato diciamo questo, avevano costruito un padiglione nel lontano 1980. Allora la differenza fondamentale è che gli ospedali gestiti all'africana sono veramente diciamo molto diversi dai nostri. Sono all'africana proprio. Esatto, infatti diciamo che l'ospedale di Maria Giulia dove siamo stati appunto a Maigarò è un ospedale che è ordinato con diciamo ci sono vari reparti, gli adulti sono insieme, i bambini sono insieme, le donne che pattoriscono hanno diciamo un reparto a parte. Invece negli ospedali gestiti all'africana sono tutti diciamo ci sono bambini con adulti e anche diciamo nel reparto a Boccaranga dove ci sono i bimbi diciamo nel reparto pediatrico praticamente ci sono tutte le patologie insieme, cioè c'è il bambino con la meningite, vicino al bambino con la sepsi neonatale, vicino al bambino col morbo di pot e quindi insomma diciamo che dal punto di vista anche igienico ed epidemiologico cioè giusto per la trasmissione delle malattie non è proprio il massimo. Ovviamente anche dal punto di vista delle medicine, dal punto di vista dell'organizzazione diciamo c'è una bella differenza e direi che la differenza fondamentale sta nella pulizia. Ecco proprio abbiamo visto le peggio cose all'ospedale di Ngaundai in cui veramente diciamo che le norme igieniche anche più semplici non sono rispettate. Non entro nel dettaglio però vi dico che veramente diciamo che c'è una bella differenza rispetto ai nostri dati. Ricordiamo soprattutto questo perché è quello che dicevamo l'altra volta proprio di una povertà culturale perché un po' di ordine, un po' di pulizia non chiede tantissimo dal punto di vista effettivo, pratico così eppure mentalmente chiede tantissimo e da questo punto di vista come dicevamo sicuramente l'importanza della presenza delle missioni e di quello che fanno, la presenza di un ospedale invece col poco perché poi comunque rimane sempre poco è ordinato, pulito e questo è un apporto molto importante da dare che proprio è quella testimonianza che si dà più che con le parole proprio con l'esempio e questa credo che sia molto importante anche su questa cosa. Ecco da questo punto di vista padre Francesco. Si volevo aggiungere una cosetta perché gli ospedali di Gaundai e di Boccaranga sono stati passati allo Stato ma chi l'ha costruiti è la missione. Ecco perché ritornando al discorso che facevamo prima, cioè chi gestisce la cosa pubblica e questo ho insistito anche con i frati capuccini centrafricani e chadiani perché noi abbiamo frati del Chad e frati capuccini del... ho detto voi dovete essere la coscienza critica nel vostro paese perché se no il messaggio evangelico rimane una bella idea, cioè bisogna far passare delle idee che diventino fatti concreti. Questa è la cosa più importante veramente perché appunto la presenza, l'essere lì, ecco è un cammino lungo però io dico quando penso anche quando ero piccolo e cerco di pensare quello che vedo adesso, io dico davvero un progresso c'è, un piccolo passo c'è, questa presenza di questi missionari certamente si augurebbe che sia un po' di più però ecco un passo c'è, io vedo proprio nel mio paese che poi appunto è simile al Centrafrica e la situazione è così. Allora tornando un pochino indietro mi ricordo che signora Silvana ci aveva raccontato della sua associazione che in qualche modo appunto c'entra con quello che stiamo dicendo e intanto ecco presidente dell'associazione Che Arte, di chi si tratta? L'associazione Che Arte è nata nel 2011, è nata diciamo da alcuni viaggi che ho fatto in passato e io ho lavorato per la formazione nelle scuole sull'aspetto artistico, dell'espressività e io in questo viaggio in particolare non sono andata non per l'associazione ma naturalmente poi vedendo quello che accade e incontrando le persone non potevo non vedere ecco quello che sta nascendo di molto bello e che può essere in qualche modo legato all'associazione. noi facciamo progetti diciamo collaborando con l'ONG o con i missionari proprio sull'aspetto dell'arte e dell'espressività fondamentale per i bambini, per la persona, proprio per un valore per sé e per tutto quello che poi ne consegue per l'educazione. In particolare a Buar abbiamo incontrato un frate, frate Benedict polacco che ci ha raccontato di un progetto bellissimo che è quello di realizzare la prima scuola di musica in Centrafrica. Lui aveva già fatto un'esperienza di qualche mese con i bambini e la sta iniziando proprio adesso a febbraio, hanno iniziato i primi corsi di musica con i bambini negli spazi che esistono già le aule scolastici e alcuni strumenti musicali a Buar. Abbiamo proprio in quei giorni casualmente, che diciamo non è un caso, abbiamo incontrato Ann che è una musicista, una professionista polacca che starà 5 mesi e cominciano a fare dei corsi di musica, hanno già delle classi con 50 bambini divisi, bambini dai 6 ai 12 anni. L'idea è proprio quindi quella di, non lì del progetto perché esiste già il progetto, di realizzare un conservatorio e quindi partendo dalla lezione di musica, di canto, di danza e strumenti musicali. È un progetto meraviglioso anche perché sappiamo, ve lo sapete meglio dire, come la musica, la danza, il movimento è già dentro l'anima dei bambini e noi abbiamo visto i bambini anche di un anno di due anni che danzano, che cantano, che si muovono con una facilità incredibile. Ecco, questo è una cosa appunto, in senso buono dico, un altro luogo comune ma giusto perché si dice che proprio la danza, la musica è nel sangue africano e questo penso che l'avete visto ed è molto bello. Ci sono veramente delle ricchezze, delle potenzialità, spesso sui porti lì nella povertà che uno non sa e che poi invece se si può aiutare per farle emergere è un'altra cosa molto importante. Su questo ricordo una cosa che abbiamo sempre ripetuto nelle nostre trasmissioni, cioè quando dicevamo che la missione riguarda tutti, ognuno può fare qualcosa nel suo ambito, nella sua vita, in quello che si occupa senza dover andare o fare non si sa che cosa e questo è un esempio molto importante che da un'associazione appunto nato per degli obiettivi precisi così, però si allarga e apprende appunto campo anche nella testimonianza missionaria, proprio nella capacità di dare quello che uno sente e ha nel cuore. Grazie per questo aspetto perché è un esempio preciso, concreto su questa cosa che dicevamo spesso, che diciamo sempre, che ognuno di noi davvero nella sua vita può donare qualcosa, può spendersi per il bene degli altri. Ecco a questo proposito appunto il viaggio che avete fatto è un viaggio che sicuramente avete il sogno di continuare appunto dicevamo con questi progetti e ecco quali altre cose, quali altri aspetti un pochino per continuare, per non dimenticare questo viaggio. Non so Alina cosa... Io posso aggiungere a livello educativo diciamo che l'educazione è comunque la risorsa primaria per lo sviluppo appunto di un popolo. Nel nostro viaggio a Boca Ranga abbiamo incontrato questa congregazione di suore, di suore di Santa Maria Antida, quindi suore Emma, suore Maria Elena, suore Eliane hanno appunto queste scuole e loro hanno questo progetto di accompagnare delle ragazze meritevoli sino all'università e questo ha ovviamente un costo per cui a noi è proprio interessato riuscire comunque ad aiutare queste ragazze perché comunque lo sviluppo anche di quel popolo lì può essere proprio l'educazione e il fatto che queste ragazze sono proprio l'educazione della donna perché la donna è proprio un pilastro della famiglia per cui in quello può essere veramente una risorsa grande, molto grande per cui la possibilità che queste ragazze riescano ad arrivare all'università e la cosa interessante che ci dicevano è che comunque sia le ragazze ma comunque anche i ragazzi che comunque riescano ad arrivare all'università che poi possano fermarsi a lavorare in Centrafrica perché lì spesso succede che uno arriva all'università e poi è più semplice magari andare in un altro paese vicino per una questione economica, mentre invece è educativo che lì dicano ti aiutiamo, ti portiamo sino a fare l'università quindi a realizzare un sogno, a realizzare una professione tua però garantisci poi che almeno un po' di anni tu li ridai al tuo paese perché questo si sviluppi Credo che è una bellissima intuizione questa anche perché tra tutte quelle cose che dicevamo sulla povertà africana che è una povertà culturale, penso padre Francesco sa come ad esempio troviamo delle persone che magari non hanno neanche un paio di sandari ma hanno un cellulare a volte capita e non si sa come perché poi l'economia come dicevamo fa il suo gioco e magari invece di portare di fare costruire un pozzo d'acqua per le persone che non hanno l'acqua si divulga anche gli apparecchi ecco su questo credo che intanto non so se la situazione è veramente così perché io mi immagino una situazione simile a quello che vedo in Burundi, proprio una dislocazione mentale e quindi anche persone che studiano poi magari non sono capace di mettere a frutto proprio del posto di quello che hanno imparato Sì, l'impressione appunto che ho avuto è che è successo anche da noi in Italia perché nel secondo dopoguerra io ricordo benissimo che c'era di quelli che avevano l'orologio da polso usavano l'orologio da polso però poi alla fine del discorso non avevano le cose essenziali per farsi da mangiare e quindi chiaramente c'è un'evoluzione in tutte le cose noi diciamo così nell'attività di promozione sociale in Centrafrica siamo partiti con, te ne accennavo prima, con i catechisti, le scuole di catechisti a fiancare, cioè nella chiesa non ci sono solo i religiosi frati, preti, suori ci sono i battezzati e lì hanno fatto una bella intuizione perché hanno fatto le scuole per i catechisti dove i catechisti oltre che la formazione religiosa imparavano a lavorare ecco lì vengo al punto perché sì che è il cellulare però non sai come si monta su quella porta in legno perché non c'è il pialletto, perché non c'è i chiodi, martello, cacciaviti eccetera e allora ritorniamo un po' a quello che avevamo fatto tanti anni fa scuole, arti e mestieri per i maschi e per le femmine ecco questa è un po' l'idea che stiamo cercando di portare avanti certo purtroppo la gente, il popolo è rimasto bloccato per tutte queste guerriglie che si sono succedute colpi di Stato, ancora adesso appunto come dicevamo c'è tutta una situazione di tensione però speriamo bene per il futuro Bene, siete tutti praticamente persone che siete già un po' da tanti anni in ambito proprio di questo dono di sé attraverso le missioni e sostegno così però volevo chiedere davvero anche da quest'ultimo viaggio perché ogni viaggio in qualche modo è anche a sé ecco volevo chiedere che cosa sul piano personale proprio dentro di voi perché sono anche le cose più importanti che a volte cambiano veramente il cuore ecco che cosa questo viaggio ha significato un po' sul vostro sentire sulla vostra vita umana e anche di fede Daniera Allora io diciamo il mio desiderio ritornando qua è di mantenere la stessa intensità di cuore di sentimento che ho avuto in quei 15 giorni che ho passato nella Repubblica Centroafricana perché comunque aver vissuto insieme a questi missionari aver vissuto un'esperienza anche con le mie amiche, con padre Francesco veramente di un'intensa profondità di fede proprio e mi ha così suscitato il desiderio di essere sempre così ecco sempre di avere questa intensità anche qui anche nel mio lavoro, anche in quello che faccio tutti i giorni con la mia famiglia insomma in tutte le cose della mia vita perché per me sono stati davvero importanti certi incontri cioè l'aver incontrato le suore Clarisse a Boar che ci hanno parlato della loro esperienza di come loro vivono, la loro vocazione di contemplativa nel centro dell'Africa mi ha colpito moltissimo lo stesso mi ha colpito moltissimo il padre Agostino a Boar cioè la serietà con cui lui comunque insegnava ai ragazzi, ai novizi perché diciamo lui è il, non so come si dice capo il responsabile dei novizi la formazione dei novizi mi ha colpito molto al di là delle parole e dei fatti che abbiamo ascoltato da loro perché ci ha raccontato tutti dell'esperienza della guerra di come comunque hanno subito proprio questi attacchi ma personali perché comunque sono entrati dentro nelle missioni i ribelli quindi i seleca hanno addirittura abbiamo visto diciamo i fori dei proiettili sulle pareti delle missioni quindi cioè ci ha colpito molto il coraggio e ripeto la perseveranza di queste persone la perseveranza nel rimanere lì accanto ai poveri e abbiamo capito che questo coraggio e questa perseveranza venivano solo dalla fede cioè che non c'era un altro motivo ecco no grazie davvero perché al di là delle parole anche l'entusiasmo con il quale lo dici si vede proprio che c'è c'è qualcosa di profondo ed è importante che tenere questo fuoco acceso sempre ecco accanto a lei c'è la signora Lina sì allora secondo me viaggi di questo tipo comunque allargano sempre la testa ti fanno veramente vedere le cose in maniera diversa per cui li consiglierei anche a qualcuno che ho in mente io a qualche ragazzina perché le farebbero bene secondo me molta gente che transita qui in Italia o comunque qui in Italia no sicuramente mi porto nel proprio nel cuore nella testa negli occhi il loro sguardo il loro modo di trattare le persone il loro modo di trattarsi tra di loro sicuramente e la speranza che hanno nonostante comunque vivano in un contesto molto critico per cui veramente questo sguardo e questa speranza che loro hanno comunque e ci hanno trasmesso tantissimo per cui questa è una cosa notevole ecco senza dire tante cose ma proprio col modo di essere con lo sguardo che hanno sulla vita che poi trasmette veramente tanto ed è molto importante quello che lei diceva veramente di consigliare io ho sempre detto dentro di me che il regalo più grande che posso offrire a qualcuno di qua perché mi hanno dato tanto sarebbe quello veramente di portarlo con me un po' qualche giorno nella mia terra come è avvenuto anche per alcuni perché so che di legare qualcosa qualcosa che va direttamente al cuore vero Daniela? Silvana Silvana sì ma per me è la stessa cosa e anch'io mi porto con me proprio queste immagini questi nomi e volti che da non dimenticare questo è quello che vorrei proprio che mi accompagnasse riuscire a portare nel quotidiano cioè nel nostro quotidiano nella nostra realtà questo modo questo rapporto con le cose questa accoglienza con tutto e con tutti un'altra cosa che ripeto mi ha colpito è questo non fare discorsi cioè poco intellettualismo non ho mai sentito grandi discorsi intellettuali ma è la vita quotidiana e questa apertura l'altra cosa anche che mi ha colpito aggiungo è questa apertura ho visto una chiesa ma è una chiesa riprendo le parole del Papa questa apertura qui veramente siamo in una delle periferie non è l'unica perché anche noi ce le abbiamo quindi riportarsi questa apertura a tutto quello che posso dire io diciamo mi piacerebbe anzi vorrei continuare come posso appoggiare i progetti la scuola o anche altri progetti anche attraverso l'associazione dedicare ancora più tempo se mi sarà possibile lì ma anche qui perché anche qua da noi questo stesso sguardo può essere assolutamente lo sguardo e la vita può essere riportata qui perché io vivo a Milano ma anche anche qui a Rapallo vediamo che ci sono tante occasioni ok grazie davvero perché vorrevo semplicemente perché quello che dicevate in quest'ultimo intervento così mi ha fatto venire in mente appunto dicevo ma cosa dirvi appunto dalla mia esperienza ma lo lascio dire a padre Francesco proprio ha già visto tante persone che sono andate in Africa che tornano e spesso si torna veramente con questo entusiasmo ed è importante anzi anche la paura di perdere quello che magari uno ha nutrito a volte dice ma riuscirò a mantenere questo cosa dice a queste nostre amiche allora una mia riflessione perché come dicevo dei viaggi ne ho fatti però ogni viaggio aggiunge sempre qualcosa ricordo una frase che mi ha colpito tanti anni ho fatto anche il libro credo vai dove ti porta il cuore ecco in tutte le cose soprattutto adesso rimaniamo nel campo del viaggio cioè bisogna metterci sempre il cuore dentro bisogna metterci l'entusiasmo bisogna avere ecco una forza interiore che ti spinge questo lo dico parlando anche con le persone certe volte mi dice ma scusa quando parli tu li coinvolgi tutti c'era una signora a Genova mi dice mi ha fatto ridere perché è una benefattrice questa qui che l'ho conosciuta per caso perché poi veniva su al cioè ho visto il suo il suo foglietto e lei poi prendendo confidenza mi dice un giorno sei Francesco ti ho conosciuto che vent'anni prima mi ha conosciuto che era segretario delle missioni tu hai un'arte per far aprire le borse ma io non è che dica delle cose strambe io dico solo che bisogna fare le cose col cuore finalizzarle bene e essere costanti quello che dico sempre preghiamo per i missionari preghiamo per noi di essere costanti nei buoni propositi molto importante questo perché è vero bisogna sapere che si aprono le tasche si aprono i portafogli quando il cuore è aperto altrimenti non c'è soluzione questa è veramente la cosa più importante che io non aggiungo nulla vorrei semplicemente concludere su questo evidentemente a volte uno può preoccuparsi dire ma sarò capace di fare questo uno nutre tanti sogni tanti progetti ma ricordatevi che l'essenziale è quello che questo viaggio ha scritto nei vostri cuori l'essenziale è quello che veramente è entrato vi ha toccato e mi verrebbe da dire lo respirerete mentre respirate e passerà attraverso le vostre mani i vostri sguardi passerà veramente attraverso le vostre scelte di ogni giorno naturalmente io dico è difficile toccare tutti gli argomenti a me piace veramente ringraziarvi tantissimo ma vi lascio anche un'ultima parola magari se abbiamo dimenticato qualcosa di importante proprio e possiamo dirlo quelli che ci ascoltano ci ascoltano volentieri lo so sono un'ultima cosa che mi ha colpito molto perché diciamo adesso quando siamo ritornati a distanza una settimana purtroppo sono arrivati i ribelli a Boccaranga hanno ammazzato 18 persone e sono di nuovo entrati nel convento con il mitra e li ha aperto il guardiano padre guardiano gli altri due frati che c'erano nel convento si sono nascosti e padre Robert il padre guardiano ha dato lui a questi ribelli per evitare ovviamente che facessero delle cose peggiori tutto quello che avevano ma la cosa che mi ha colpito di più è stato che padre Robert dopo che è successo tutto questo ci ha detto ci ha comunicato tramite diciamo lettera che lui e padre Thomas e i due padri polacchi non sarebbero andati quest'anno via cioè come al solito in vacanza diciamo in Polonia questa cosa mi ha colpito tantissimo perché dopo un episodio di questo tipo cioè la prima cosa che ti viene spontanea è di dire io a questo punto prendo e me ne vado via invece il fatto di voler rimanere lì insieme alla loro gente che ormai appunto pur essendo diciamo loro polacchi però la loro gente sono gli africani mi ha colpito tantissimo uno come segno di coraggio e secondo come segno proprio che c'è la fede poveramente delle grandi cose quindi mi sembrava una cosa bella da comunicare fede e amore perché amare vuol dire questo se uno ama e poi nelle difficoltà abbandona non è amore questo davvero grazie ancora una volta vi ringraziamo e vi aspettiamo per una prossima occasione io vorrei mentre vi ringrazio appunto salutare tutti quelli che ci seguite Missione Mondo per oggi termina qui e ci ritroviamo per la prossima puntata grazie e arrivederci a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.